I miti hanno voluto sentare per forza, noi non ci vogliamo fare per venire, perché dopo la ripetizione hanno fatto una figurata veramente brutta, però hanno insistito e vogliono essere chiamati anche i miti, ecco i miti, Bettinesi Matteo, Rati Federico e Giannoni Fabio. Allora, cosa portate? Prendete un po' di matti, allora, partete bene il tempo, allora, ora c'è anche un po' d'atmosfera per questi tre disfrazioni, pronti Enrico, ci siamo? Allora, 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 allora. Allora, 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 allora. Grazie. 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 Grazie.